Allora Adrian raccontaci un po' la partita, è sempre difficile giocare contro un avversario che è anche un tuo amico che ti alleni spesso? È stata una partita molto difficile, noi ci conosciamo veramente molto bene, siamo andati 4-5 anni insieme quindi penso che anche per lui è stato molto difficile, però alla fine sono riuscito a giocare un pochino meglio, a sbagliare un pochino meno di lui e sono riuscito a portare a casa la vittoria. Senti, nei quarti affronti Montagnese, con lui hai giocato già in tre occasioni, due volte ha vinto lui, una volta hai vinto tu, secondo te che partita sarà? Eh, sarà una partita molto interessante, probabilmente parte favorito lui, con la classifica, la testa di sera è il numero 3, però in tennis può succedere di tutto, quindi io mi auguro di giocare un buon tennis dopo l'anno. Preferisci giocare di sera, col fresco oppure di pomeriggio le campi magari un po' più veloci? Per me è meglio di sera, un po' di fresco, le palle vanno un pochino meno, quindi sbaglio un po' di fine. Grazie mille, in bocca al lupo. Grazie.